Dopo gli episodi che si sono verificati a Padova, Venezia e Treviso, ennesima aggressione a personale dei bus. Questa volta è accaduto a Marostica, su un mezzo pubblico dell'FTV. Il conducente ha chiesto di visionare il biglietto agli utenti. Uno di loro, un nigeriano 21enne, si è rifiutato di esibirlo, iniziando a inveire contro il dipendente per poi colpirlo. Il conducente ha quindi fermato il mezzo proprio davanti alla caserma dei carabinieri per chiedere loro aiuto. e qui il giovane africano, alla vista dei militari, è letteralmente esploso. Si è avventato contro gli uomini dell'arma e ne ha ferito uno. Con non poca fatica è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il carabiniere e l'autista del bus sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale per le lesioni riportate a seguito dell'aggressione del 21enne.